Ciao ragazzi, benvenuti a The Wildlife Corner, il canale della fotografia naturalistica. Dopo un po' di assenza ci rivediamo finalmente sul canale, sono successe un po' di cose. Come vedete è cambiata la location in cui si registrano i video, questo è il mio nuovo studio che ancora è praticamente da attrezzare, per ora c'è solo una parete bianca dietro di me, ma adesso piano piano compariranno delle cose più carine. Ho anche preso il Covid, così tanto per gradire, niente di grave, niente di eccezionale, comunque questo mi ha tenuto un po' impegnato e lontano dalla fotocamera per registrare. Oggi volevo approfittare per tornare sul canale con la mia risposta a una domanda che mi fanno in tantissimi, e cioè qual è la migliore lunghezza focale per la fotografia naturalistica. Tenete presente che questo tipo di risposte hanno ovviamente un carattere fortemente soggettivo, perché ciascuno di noi ha delle preferenze, ciascuno di noi ha determinati animali che prediligio a fotografare, per esempio molti amano la vifauna, altre persone sono più interessate ai grandi mammiferi, ciascuno di noi ha uno stile diverso. Tipicamente quando uno inizia a fotografare e a fare, diciamo, foto naturalistica, viene spontaneo a cercare di fare la foto più ravvicinata possibile, il ritrattone più grande possibile, poi magari nel tempo si tende ad acquisire uno stile un po' diverso, molte persone, me compreso, amano una cosa un po' più ambientata. Quindi in funzione, diciamo, di queste esigenze, ovviamente la lente preferita da una persona piuttosto che da un'altra potrebbe essere diversa. Tenete anche presente che naturalmente, come in tutte le cose fotografiche, non esiste un obiettivo perfetto che sia adatto per tutte le situazioni, perché chiaramente a secondo di quello che stiamo fotografando ci potrebbe volere un obiettivo diverso. Per esempio, siamo in Africa su un safari, su una jeep dove non possiamo scendere, un obiettivo zoom è comodo perché se un animale ci si avvicina troppo e noi non riusciamo a fotografarlo magari lo tagliamo. Viceversa, magari stiamo fotografando, non so, nella tundra norvegese, se il bue è muschiato e magari è lontano e ci vorrebbe un obiettivo molto lungo, magari fisso, magari la luce non è molta, lo vorremmo anche molto luminoso, però l'obiettivo fisso è molto pesante, allora magari ne vorremmo uno più leggero da portarci dietro. Quindi, come vedete, diciamo, non è facile trovare un obiettivo perfetto. Quindi, la scelta dell'obiettivo è un fatto di, diciamo, una situazione di compromesso. Situazione di compromesso fra il proprio stile, le proprie esigenze, gli animali che si fotografano, quello che, diciamo, ci interessa in quel momento, per esempio la leggerezza, la portabilità, eccetera, e ovviamente, non ultimo, il prezzo. Questo perché, mentre i teleobiettivi zoom, diciamo, di fascia commerciale, hanno delle cifre più abbordabili, che comunque non sono da trascurare, nel senso che superano il migliaio di euro, però sono ovviamente degli obiettivi, diciamo, relativamente economici, rispetto invece a quelli che sono i fissi di grande qualità, che possono costare anche 10-15 mila euro. Quindi, in funzione di tutte queste variabili, ci sono delle scelte diverse che si possono fare. Allora, io personalmente che cosa preferisco e quale lunghezza focale consiglio? Allora, cominciamo, diciamo, dalla lunghezza focale. Allora, secondo me, almeno in Italia, una lunghezza focale minima per fotografare gli animali, specialmente se siamo interessati alla vifauna, secondo me si aggira sui 400 mm. Si possono fare delle buone foto anche con 300, ma 300 cominciano ad essere abbastanza corti se ci troviamo in ambiente, diciamo, esterno, se andiamo, per esempio, in montagna, se vogliamo fotografare i camosci, o, peggio ancora, il lupo, l'orso, insomma, animali schivi che non si fanno avvicinare facilmente. Quindi, secondo me, almeno un 400 mm è una lunghezza, diciamo, indispensabile. Questo chiaramente per poter fare sia foto ambientate quando sono molto lontani, sia foto un po' più ravvicinate quando magari riusciamo a portarci più in prossimità del soggetto. Inoltre, secondo me, anche 400, diciamo, possono risultare corti poi in funzione anche del proprio stile. Probabilmente 500 mm è una di quelle lunghezze che più si avvicinano a una cosa, diciamo, sempre utile. Chiaramente possono essere troppi quando uno è in un capanno dove non si può muovere o in una condizione in cui non si può muovere, ma diciamo che se ha un fisso, ovviamente, ma secondo me è un'ottima lunghezza focale. Ovviamente ci sono situazioni in cui i millimetri non bastano mai, quindi averne 600 anche più può essere una cosa interessante. Quindi, secondo me, ecco, per poter fotografare almeno un 400 mm sono necessari. Quindi, se uno vuole fare proprio una cosa super economica e compra uno di questi zoom 70-300 che una volta si usavano tanto sulle reflex che su una PSC fanno 450 mm, secondo me, già comincia ad avere una lunghezza focale interessante. Meglio ancora, per cominciare, ci sono anche diversi zoom commerciali che in genere vanno nel range dai 150 ai 600 mm, con l'eccezione di Nikon che ha un 200-500 al momento. Questi obiettivi, ovviamente, sono più, diciamo, adatti in termini di lunghezza focale perché intanto, vabbè, sono degli zoom quindi hanno una certa versatilità. La lunghezza focale, ovviamente, nella parte massima si avvicina alla cosa più utile possibile o addirittura a volte la supera. Nella parte più bassa ci consente, appunto, anche di, diciamo, di affrontare situazioni ravvicinate. Questi zoom tipicamente hanno un costo abbastanza basso e quindi sono anche una buona scelta, secondo me, per cominciare, cioè per capire se questo genere fotografico ci piace, se sì, ci possono dare anche grandi soddisfazioni. Sono abbastanza leggeri, generalmente, con qualche eccezione, abbastanza leggeri da poterli portare anche per, insomma, un tempo prolungato, magari usarli anche a mano libera, quindi usarli non solo in un capanno, ma anche in condizioni in cui ci muoviamo parecchio. In questo momento storico, in cui, diciamo, si assiste un po' in tutti i marchi il passaggio da Reflex a Mirrorless, stanno anche cambiando le cose, perché molti produttori hanno il loro zoom di riferimento proprio della casa, direttamente per il mondo mirrorless. Per esempio, la Sony A il 200-600, che è l'obiettivo che ho io in questo momento, che è un obiettivo veramente di una grandissima qualità e che, rispetto a questi zoom commerciali, ha anche il vantaggio di avere lo zoom interno, quindi di non avere parti che escono esterne. Canon ha un 100-500, che ha uno zoom esterno, ma comunque mi dicono essere un'ottima lente. Nikon produrrà fra un po' il 200-600, che è nella sua roadmap, è l'unico, diciamo, teleobiettivo che ancora non è uscito. Quindi, diciamo che in questo momento storico, probabilmente quando sarà completata la transizione verso il mirrorless, più o meno, qualunque marca di macchine voi scegliate, ci sarà una soluzione nativa appropriata e poi questi zoom commerciali, ovviamente Sigma, Tamron, eccetera, produrranno anche le loro versioni compatibili. Quindi, insomma, c'è una vasta scelta. Tipicamente, questi zoom commerciali hanno dei prezzi più abbordabili, almeno, e scusate, anche i zoom nativi, almeno quello di Sony, quello di Canon è un po' più costoso, quello di Nikon non è ancora noto il prezzo, ma probabilmente sarà sul livello di quello di Sony. Quindi diciamo che c'è una certa scelta. Ovviamente, quando uno invece passa a volere un obiettivo fisso, deve mettere in conto che gli obiettivi fissi hanno dei costi superiori. E qui, diciamo, c'è la mia preferenza, quella che io, se potessi, sceglierei in questo momento, che non è quello che ho. Allora, voi sapete che, se seguite questo canale, che io tempo fa, circa un annetto fa, passai da Nikon a Sony, e ho comprato lo zoom 200-600, perché è l'unica cosa che potevo comprare, perché gli obiettivi fissi della Sony costano, ovviamente, tantissimo. Ed anche se è un obiettivo che a me piace molto, in realtà, poi, la flessibilità dello zoom a me interessa relativamente poco, perché io, più o meno, l'ho usato sempre al massimo della sua estensione, e, diciamo, generalmente non sono un grande utilizzatore dello zoom, mi piace quando posso muovermi avanti e indietro, e, nelle situazioni in cui non mi posso muovere, certe volte mi dimentico anche di avere lo zoom e, magari, mi concentro sul dettaglio, piuttosto che sulla figura intera. Quindi, sinceramente, non è una cosa che uso molto. E, quindi, mi, diciamo, mi sarebbe piaciuto avere, ovviamente, un fisso. Però, i fissi di qualità, cioè i 500 f4, 600 f4, eccetera, eccetera, hanno dei prezzi, il 400 f2, 8, hanno dei prezzi molto, molto cospigui. E, quindi, non l'ho potuto comprare. Ma, hanno anche un altro svantaggio, che è il loro peso, il loro ingombro. Tenete presente che, Sony non fa un 500, ha direttamente un 600 f4, un 400 f2, 8. Nikon ha, sia il 400 f2, 8, che, con il moltiplicatore incorporato, che è veramente un bellissimo obiettivo, che ha appena fatto, ma che costa 16.000 euro. Poi, ha un 800 f6 e 3, con una tecnologia particolare, che lo rende più leggero, ma comunque un 800 mm, quindi, ha un bel ingombro, però, ovviamente, vi consente un'estensione molto, molto lunga. Produrrà, a breve, un 600 mm f4, probabilmente. Questo, per il mondo mirrorless, per il mondo reflex, ovviamente, trovate, invece, di tutti i fissi f4, e f2, 8, e Canon, anche, ha, ovviamente, obiettivi fissi, di grandissima qualità, e con le stesse caratteristiche, cioè, peso e ingombro, e prezzo, che sono cospicui. Io, personalmente, invece, sono stato innamorato, per tanto tempo, che è poi il motivo che mi ha tenuto in Nikon, per tanto tempo, di quegli obiettivi fissi, molto più leggeri, in particolare, io avevo il 500 pf, che è un obiettivo 500 mm fisso, f5,6, quindi, non super luminoso, ma neanche super buio, che, però, pesa solamente un chilogrammo, 1,4 chilogrammi, ed è un obiettivo, devo dire, veramente fantastico. Io, feci la scelta di venderlo, insieme alla mia Nikon, perché, comunque, avevo, diciamo, intuito, che il mondo stava andando verso, il mirrorless, e quindi, ho voluto venderlo, nel momento in cui ne potevo ricavare di più, passai a Sony, perché volevo una macchina, diciamo, con caratteristiche superiori, che Nikon in quel momento non aveva, la Z9 è uscita molto dopo, e ancora oggi, se uno la vuole comprare, ci sono 4-5 mesi di lista d'attesa, quindi non è un oggetto così facile da avere, anche se hanno prodotto veramente un'ottima macchina. Però, ho sofferto molto quella scelta. Oggi Nikon ha prodotto un 400 F4.5, che, secondo me, nel mondo mirrorless, rappresenta veramente un ottimo obiettivo, perché è molto, molto piccolo, addirittura pesa 1,2 kg, qualcosa del genere, è abbastanza luminoso, ci si può, ovviamente, si può utilizzare con un moltiplicatore 1.4, quindi diventa un 560, e ha un'apertura accettabile di f6.3, e poi, con macchine con tanti megapixel, come per esempio una Z9, una Z7.2, ovviamente si può fare un bel crop, quindi arrivare a lunghezze equivalenti, che superano gli 800 mm. Ecco, se io potessi scegliere oggi, e potessi, diciamo, orientarmi su una cosa del genere, sceglierei un obiettivo di quel tipo. Sfortunatamente Sony non ne ha al momento, quindi non ho potuto fare questa scelta, non è detto che, diciamo, questa mancanza non mi riporti più in là, verso il mondo Nikon, è un pensiero che sto facendo, poi, diciamo, vedremo, anche se, come vi dicevo purtroppo, le liste di attesa sono lunghissime, ma ecco, se io potessi scegliere personalmente, prediligerei un obiettivo di quel tipo. Perché lo prediligo? Perché quel tipo di lunghezza focale, per il mio stile di fotografia, per le cose che a me piacciono, è sufficiente, cioè, per me, 400 mm, che posso portare a 600 con un crop in camera, oppure addirittura a 800, se ci metto un moltiplicatore, per me, per il mio stile, sono una cosa sufficiente. Quando non sono sufficienti, per me l'animale è troppo lontano, oppure la foto deve essere una foto che racconta una cosa totalmente diversa, in cui magari l'animale è anche minuscolo, che però racconta una storia. Quindi, per il mio stile, è una cosa che a me piace. Sono leggerissimi, è leggerissimo, o comunque in genere obiettivi di quel tipo, compreso il 500 pf, che è tuttora un validissimo obiettivo, seppure da usarsi con un moltiplicatore, con un, scusate, con un adattatore. Sono obiettivi molto leggeri. Questo vuol dire poterli portare anche per lunghi percorsi in montagna, perché a me piace molto andare in natura, mi piace camminare, ma camminare con un peso enorme sulla schiena, e anche con un'ingombra enorme, come se uno decide di viaggiare, per esempio, in aereo, è una cosa, diciamo, un po' antipatica. Mentre questi obiettivi, secondo me, coniugano il meglio di, diciamo, di tutti e due i mondi. E oltretutto, sono delle cose che hanno un prezzo, diciamo, abbordabile. Vi faccio l'esempio di Nikon, perché è l'unica che ce l'ha in questo momento. Canon ha fatto delle cose, però, che io, diciamo, non apprezzo tantissimo. Cioè, ha fatto degli obiettivi fissi, poco luminosi, che hanno dei prezzi più abbordabili, ma parliamo di aperture tipo di F8, insomma, cose del genere, che, boh, onestamente non mi entusiasmano. Secondo me, invece, Nikon ha fatto un'ottima scelta, ed è una grossa pecca di Sony in questo momento il non averli, con questo tipo di ottiche, che, secondo me, abbracciano un pubblico piuttosto vasto, di persone, che amano la leggerezza, la portabilità, non solo per la foto naturalistica, ovviamente, ma anche, magari, per lo sport, per altre cose. E questo tipo di obiettivi hanno un prezzo abbordabile, che, insomma, è inferiore ai 4.000 euro, che è una cifra enorme in assoluto. Però, per uno che è appassionato di questo genere, che ne fa anche un lavoro, che vende le proprie foto, che vuole dei risultati, o che magari ha una disponibilità economica, perché magari sono tanti anni che risparmia, diciamo, e vuole togliersi una soddisfazione, lo vuole comprare, magari è una cosa a cui si può arrivare, molto più facilmente, che non acquistare una cosa che costa 16.000 euro, insomma, che è veramente una cifra molto, molto consistente. E, è una cosa che io, diciamo, non consiglierei a uno che inizia in questo momento. Come vi dicevo, io, personalmente, se dovessi dare un consiglio spassionato, consiglierei sempre di, diciamo, di partire con un obiettivo di questi zoom, magari economici, capire se veramente ci piace il genere, e poi, ecco, magari fare un salto di qualità di questo tipo. Però, ecco, personalmente, io sono un amante di questo tipo di ottica. Come vi dicevo, queste sono opinioni fortemente personali, perché dipendono da una serie di fattori. Nel mio caso, i fattori sono, intanto il prezzo, ovviamente, perché io non posso arrivare a quelle grandi cifre dei fissi, quindi, difficilmente, diciamo, anche mentalmente posso aspirarci. Due, il peso, qualche problema alla schiena, mi piace camminare tanto all'aperto, quindi una cosa leggera, per me, è, diciamo, più comoda. Mi piace viaggiare in aereo, e quindi è una cosa molto pratica, portatile, che si può portare con sé senza enormi problemi di bagaglio. La maneggevolezza, perché con un obiettivo di questo genere, si riesce a fotografare in qualunque posizione. Il non aver bisogno di un treppiede, magari al massimo di un monopiede, perché è talmente leggero, che puoi fotografarci a mano libera, anche per tutto il giorno. Quindi, ecco, queste sono, diciamo, delle caratteristiche che a me piacciono, e che mi fanno propendere per quel tipo di ottica. Come vedete, quindi, una risposta assoluta non c'è, però, ecco, se, diciamo, volete prendere uno spunto da questa osservazione, è che, però, è importantissimo avere una lunghezza focale minima, per poter fare questo tipo di foto. molti mi chiedono, ma con un 70-200 ci posso fare le foto? Sì, sicuramente, in certi contesti, magari è anche utile, carino, sono obiettivi estremamente luminosi, magari, se uno ha un 70-200 f2.8, perché magari ci fa foto di ritratto, foto sportive, eccetera, può essere un obiettivo. però tenete presente che è una lunghezza veramente abbastanza corta, specialmente in Italia, e quindi, molto spesso sarà attaccato a un moltiplicatore, che magari vi porterà ad avere un po' di più, ma non avere una lunghezza enorme, a meno che non metterci un 2x, insomma, comincia ad essere una cosa abbastanza scomoda. Quindi, io, ecco, vi consiglio, di orientarvi su una cosa che sia almeno 300 mm, meglio 400, meglio forse ancora 500, se ovviamente siete su full frame. Se invece avete una PSC, ovviamente, se utilizzate una cosa tipo anche un semplice 70-300, già cominciate ad arrivare a delle lunghezze focali interessanti. Quindi, ecco, questi sono, diciamo, i miei consigli, le mie osservazioni. Qualcuno mi dice, dice sì, però l'obiettivo fisso ha una qualità maggiore, le foto vengono meglio, eccetera. Questa cosa, diciamo, a mio parere, non è vera, nel senso che quali sono le caratteristiche che differenziano un fisso da 16.000 euro rispetto a un obiettivo commerciale? Ci sono delle differenze costruttive, ovviamente, differenze di assemblaggio, perché sono assemblati con una cura molto maggiore, con un controllo di qualità maggiore, quindi non c'è una grande variabilità nelle copie. Mentre uno poteva comprare un 200-500 della Nikon sette volte e avere sette obiettivi completamente diversi, uno super nitide o uno che faceva schifo, se uno compra un 500 F4, raramente troverà questo tipo di problema. Quindi questa è una prima differenza. L'altra differenza sostanziale è ovviamente nella luminosità, e lo stop di luminosità, o anche lo stop e mezzo, lo stop e due terzi, significa poter sfocare lo sfondo molto di più, fare un bocca dietro nella parte sfogata, che è molto più piacevole. Quindi c'è una differenza in questo senso. In termini di nitidezza, sicuramente un obiettivo fisso sarà più nitido, ma ormai questi zoom moderni, specialmente alcuni, hanno delle caratteristiche che veramente non fanno rimpiangere e non avere un fisso. Quindi non vi sentite limitati se vi orientate su una scelta del genere. Per esempio, io utilizzo il 200-600mm di Sony da un annetto, ma sinceramente tutta questa limitazione io non ce la vedo. La nitidezza è veramente fantastica. Ovviamente f6 e3 a 600mm non è il massimo. Se lo sfondo è vicino, ovviamente tende a essere meno piacevole. Quando lo sfondo, diciamo, è lontano, quindi è ideale per la fotografia, onestamente si sfoca talmente tanto che non riuscirei mai a notare la differenza se avessi un 400mm f2.8. Questo lo devo dire con onestà, diciamo. È un obiettivo per me, diciamo, un po' pesante, un po' ingombrante rispetto a quello che a me piace, per cui mi orienterei magari, ecco, su uno di questi fissi modello di quelli Nikon. Se Sony lo facesse, lo avrei già comprato, onestamente. Però a parte questo, a livello, diciamo, di resa, di caratteristiche fotografiche, non ci trovo tutti questi grandi difetti. Quindi, ecco, prima di spendere cifre esorbitanti ad un obiettivo fisso, perché altrimenti uno non può fare le foto belle, questo onestamente io non concordo. Tant'è vero che moltissimi fotografi famosi, per esempio c'è Morten Hilmer, che è un fotografo danese, che ora è anche ambassador Nikon, e insomma fa dei video molto interessanti, vi consiglio di vederlo se non lo avete mai visto. Lui ha un 600 f4 della Nikon, ma molto spesso si porta dietro il 150-600 della Tamron, se l'è portato dalle Svalbard, in un sacco di posti, a Ellesmere Island, e molto spesso ha usato quello semplicemente per una questione di comodità. Quindi non è che uno non possa fare belle foto se non ha quella cifra esorbitante. Questo ci tengo sempre a ribadirlo in questo canale. Io sono uno a cui piace l'elettronica, mi piacciono le attrezzature, ho un background di tipo anche informatico, quindi mi piace la tecnologia in generale, però la foto è fatta di tante altre cose, quindi l'attrezzatura magari aiuta, ti dà risultati più consistenti, ti aiuta a portare a casa di più, però non bisogna neanche farsene una malattia. Ecco, questo è il mio messaggio. Spero di aver risposto un po' a tutte le domande che mi sono arrivate in questi ultimi mesi sugli obiettivi, spero di avervi dato qualche consiglio utile, e se avete domande come al solito lasciatele qui sotto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao e buona giornata.